Musica E bello a tutti ragazzi sono Girobrega e sono qui oggi tornato a portarvi un nuovo video che è stato richiesto veramente da tanti di voi E per questo che oggi vi porto un percorso nel quale miglioreremo la mira con tutti i tipi di armi Ho tolto il cecchino che se volete mi cerco qualche mappa su youtube o su internet in generale e proviamo a farla anche con il cecchino Che sicuramente ci sarà qualcuno l'avrà creata quindi possiamo trovarla tranquillamente Prima di partire però vi ricordo che se volete altri video su queste mappe qua vi chiedo come sempre di arrivare a 50 likes Ma soprattutto regà che è la condizione necessaria perché affinché esca un nuovo episodio è quella di arrivare a 50 condivisioni Quindi la prima cosa che dovete fare è tastino in alto a destra per voi Frecettina che condividete ai vostri amici sul vostro gruppo whatsapp E se lo fate mandatemi uno screen su instagram che vi metto likes Seconda cosa vi ricordo che io streamo praticamente una volta ogni 2-3 giorni Quindi se nel caso in cui non vi arriva la notifica sapete che io più o meno streamo Se streamo streamo alla sera verso le 8 e mezza Quindi venite e che spesso e volentieri gioco con gli iscritti quindi se volete partecipare a una live basta che veniate E poi le volte che gioco con gli iscritti ve lo dico e vi faccio entrare Cosa importante però visto che io vorrei iniziare a streamare quotidianamente Devo fare un abbonamento di circa 40 euro mensile per poter streamare Per comprarmi una sim 4g con 400 giga devo pagare 40 euro al mese Quindi se qualcuno di voi volesse supportarmi ho trovato due mani di supporto effettivamente tutte e due assolutamente gratuiti Il primo è quello di inserire all'italia dei negozi oggetti supporto a un creatore Gilbeu Questo sarebbe il mio codice Questo qua l'ho attivato circa due giorni fa ho visto che già alcuni di voi mi hanno supportato Quindi sono felicissimo e vi ringrazio soprattutto E il secondo metodo è quello di comprare roba su amazon tramite il mio link Quindi si non è proprio gratuito però a voi non costa nulla in più rispetto a quello che dovevate comprare Quindi semplicemente se dovete comprare qualcosa su amazon me lo scrivete su instagram se avete voglia E vi linko le cose e semplicemente riceverò una piccolissima percentuale però che mi aiuterà a supportare A rientrare dei costi di 40 euro mensili che vi permetteranno di streamare in live tutti i giorni Quindi se avete voglia di supportare il mio canale basta questo Possiamo effettivamente passare alla isola che vi dicevo Quindi alla mappa per allenarvi con la mira Ci picchiamo direttamente davanti all'isola Avviamo un nuovo serve e poi ci picchiamo direttamente nel codice che dovrete inserire per partecipare a questa mappa Allora Per entrare nella mappa che vi permetterà di allenare la mira Non dovrete entrare nella vostra isola quindi questa qua ma dovrete andare in un'altra isola Quindi un altro rift Inserì cliccare su e per me ma penso sia quadrato per quelli su playstation Visto che è una cosa che vi permette di giocare sia su playstation sia su pc quindi non c'è problema Dovrebbe essere quadrato non sono sicuro ma direi di sì Tenete premuto dovrete inserire questo codice qua 111799184636 dovrete inserirlo Fare aggiorna preferiti Cliccare sulla isola che sarebbe questa qua Quindi ricordo che Mi sono dimenticato però Ricordo che queste mappe qua non sono create da me Quindi non voglio assolutamente prendermi meriti che non mi spettano Vi lascerò infatti in descrizione il link di questo ragazzo che ha creato questa mappa qua La selezionate Seleziona isola E poi semplicemente dovrete entrare all'interno del rift E procedere con la mappa Adesso aspetto che si carichi e poi ci vediamo direttamente dentro Ok raga Siamo all'interno del mappa Cosa dovrete fare qua? Prima di fare qualsiasi cosa Infatti qua non potrete prendere le armi Prima di fare qualsiasi cosa c'è scritto lì Apri il menu principale E seleziona avvia partita Io la prima partita La prima volta che ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere lento Così vi spiego tutto quello che dovete fare Cosa dovrete fare? Dovrete andare su ogni arma a raccoglierla Poi vabbè io sono un malatto di mente E quindi sono ossessionato dal fatto che le armi siano tutte in posizione corretta Quindi me le sistemo Poi dovrete andare su questo qua Però in realtà non è necessario Se volete farlo col tempo potete fare cliccare qua Se no basta che semplicemente non lo cliccate Facciate esercizi semplicemente tranquilli Altra cosa Direi che Se qualcuno di voi ha voglia di farlo col tempo Iscrivermi qua sotto quanto ha fatto Così vi dico un mio parere su quello che è il vostro record Magari E niente Vediamo un po' Facciamo una sfida tra gli iscritti E lo faccio ripartire Partiamo con lo scar Primo coso Adesso lo faccio molto lento Avrete due Opzioni Io consiglio di fare prima questa qua Quindi dovete sparare Con lo scar su tutti questi cubettini grigi Dovete cercare di essere più precisi possibili Questo qua è abbastanza facile rispetto a quello dopo Infatti vi farò vedere che è molto molto più difficile Infatti questo qua lo fai abbastanza veloce Questo qua invece è molto più difficile Quindi prendetevi tutto il tempo che vi serve Cercate di non missare O comunque di missarne pochi di colpi Perché è importante essere precisi per migliorare E l'unico modo per migliorare è Fare le cose non di fretta Ma fare le cose bene Infatti io per le prime volte vi consiglio di non badare tanto al timer Ma di badare a essere precisi Quindi il primo step scala Secondo step sarà quello con la R di power Qua avrete come prima due opzioni Prima questa E seconda questa direi Poi fatelo come volete non è un problema Comunque qua dovrete Shottare le lanternine Perché non me le distrugge Ma Bello buggato Ragazzi è la prima volta che mi capita In realtà va benissimo questa mappa Non so perché O sto laggando io ma Direi di nuovo visto che Ho il ping a 32 però È la prima volta che questa mappa qua L'ho provata tipo 6-7 volte È la prima volta che mi dà un problema Quindi non dovrebbe darvi problemi Comunque Se vi dà problemi fatelo sapere qua sotto Vedete Ah no ragazzi Sono le lanternine che saranno buggate un po' Infatti questo qua non mi dà problemi Quindi Direi che è solo un errore temporaneo Comunque Quello che così è Cercate di essere il più precisi possibile Visto che tantissimi di voi Mi hanno chiesto una mappa In cui includesse Cioè Nella mappa che includesse Delle parti da fare Con il fucile a pompa Io l'ho cercato L'ho trovata Infatti questa qua Avrà questi esercizi qua Voi dovrete arrivare qua Salirete di qua Arrivate qua Vedete che all'interno c'è Una mini Un mini paletto Voi dovrete Modificare Adesso io l'ho ripristinato Modificare Modificare Sparare Rimodificare Adesso procedere tutto molto lento Perché così Imparate E lo vedete com'è Qua dovrete modificare Sparare E rimodificare Stessa cosa qua Sparare E rimodificare Modificare Sparare E rimodificare E tutto così Questi qua Questi tre qua O quattro Mi ricordo Forse erano quattro Sì erano quattro Dovete farli così Poi vabbè La seconda parte Sempre col pompa Che questa qua Dovete modificare Sparare allo stop Rimodificare E Stessa cosa Dovete farlo per questi tre Quattro così qua Adesso lo faccio vedere veloce Quindi dovete Stesso procedimento di prima Modificate Sparate E rimodificate Io vabbè Adesso ho le dita freddissime Perché ho appena acceso Comunque Infatti Ho le dita freddissime E riesco a fare tutto Molto Molto lento Comunque E' tutto abbastanza intuitivo Regale Nel senso Non dovreste Avere problemi Questa parte qua Invece è un po' più complicata E' un po' difficile da capire Comunque Cioè Un po' difficile da capire Se non ve la spiego Se ve la spiego E' semplicissimo Dovrete andare avanti E Il creatore della mappa Che è una cosa sensata Ha creato la mappa In modo tale che Tu debba saltare Sparare con La P90 Visto che con la mitraglietta Solitamente nei fight Spesso e volentieri Si tende a saltare Sparando Quindi Nooo Ci sta che l'ho messo Quattro volte E niente Poi qua Arrivate Ed è concluso Vabbè Si Ci ho messo Cinque minuti Quattro minuti Quattro minuti Ventuno Perché sono Un ritardato E l'ho fatto lentissimo Per farvelo vedere Però adesso Cerchiamo di fare Un tempo migliore Dai Fatemi sapere Qua sotto voi Nei commenti Cosa avete fatto Adesso cerco Di fare una run Migliore E vediamo Cosa combiniamo Non è che Ci sto tryhardando Regà Lo faccio Seconda volta Ci ho le mani Belle belle fredde Però cerchiamo di fare Il meglio possibile Almeno di stare Sotto I quattro Almeno Ci ho messo Quattro minuti E venti O tre Cerchiamo di stare Sotto i tre cinquanta Vediamo se ci riusciamo Dovremmo avviare la partita Spero mi faccia avviare La partita di qua Perché se ne ha un problemino Ok Mi fa partire di qua Mi sistemo l'arma E poi partiamo Cerchiamo di fare Un buon tempo Ma niente di tryhardoso Perché Non è che mi metto Tryhardare Questo qua è un allenamento Quindi prendetelo Come allenamento Non è che dovete Star lì Cerchiamo di fare Temponi Perché tanto Non mi c'è nulla Quindi Mi combina Allenarvi bene Ok Partiamo Ok Siamo partiti subito Bene Vedete che a fare Le cose di fretta Alla fine Lo faccio peggio Di come l'ho fatto Prima Che l'ho fatto Lento Ok Questo qua Vabbè Questo qua è molto Difficile da far veloce Comunque Se riuscite a farlo Veloce Buon per voi Però È veramente Difficile Questi Palettini Geli Sono ben Difficili Da prendere Magari In Da playstation 4 Con la mia assistita Non Ah no A parte che la mia assistita Su questi paletti qua Non c'è In teoria Non sono sicuro Ma direi di no Quindi forse Sarà difficile Anche per voi Vedete Vedete che Adesso Non sono Buggati Quindi Il problema Forse Era solo Di prima Ok Cerchiamo di fare Un buon tempo Nulla di Eccezionale Solo per capire Se siamo In grado Di farlo O no L'unica cosa Che secondo me Mi impappinerà È la modifica Qua perché C'è le dita Proprio fredde Ok 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 Boys Non potevo Non impappinarmi Misto che C'ho le dita Belle belle fredde Regà Oh Quanto mi sto Impappinando Comunque Regà Da me Fa bello Bello fredde Quindi Mi sto Proprio Impappinando Perché le dita Proprio belle fredde Comunque Questi qua Le pesa Abbastanza Bene Quindi No Questo qua Secondo me Da ci sono più difficili Rispetto agli altri 7 minuti e 43 Quindi ci ho messo 2 minuti e 17 Se la matematica Non mi inganna Quindi Regà Direi che Si può fare Tranquillamente Credo di metterci Molto di più In realtà Direi che un buon tempo Secondo me Sotto I due minuti Sotto i due minuti Un minuto forse Un minuto 50 Se stai in un minuto 50 Sei veramente Un cavallone Io so Beh L'ho provato tipo 7-8 volte Niente di Trajardoso Comunque Provatelo Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Cosa ne pensate Se vi piace E soprattutto Se Regà Mi supportate Sia su Amazon Quindi comprando tramite I miei link Quindi scrivendomi su Instagram E utilizzando i miei link Per comprare O Per O tramite Supporto a un creatore di Fortnite Fatemi una storia Che io Vi riposto nelle mie storie Quindi Non lo so Un piccolo Una piccola ricompensa Se così si può chiamare Di quello che voglio dare Niente regà Io spero che questo video Vi sia piaciuto Facciate un bel like Un commento E niente ci vediamo direttamente Al prossimo video Ciao Ciao